Siamo a San Siro, nella scala del calcio, taglio meraviglioso. Un saluto da Pierugipardo e Lelle Adani, pronti come sempre a tenervi compagnia. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Oggi in campo Inter e Sampdoria. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. In porta Ciandanovic, in difesa da Efraig con Skriniar. Marella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo. E davanti Dzeko, accanto a Lautaro Martinez. Giocare in questo stadio è il sogno di ogni calciatore. Lo scenario è unico. Il calore del pubblico a due passi dal campo regala emozioni uniche, indescrivibili. Che ancora oggi non posso dimenticare. Sampdoria inizia il match con questi 11. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di quest'anno di centro campo, che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo partito in corso. Non concede nulla all'attaccante. Brozovic Erin Dzeko Barella Buono il tackle Ferrari Interviene e spazza Lautaro Martinez, tra i più attesi di questo match, avranno bisogno dei suoi gol per portare a casa il risultato. Seconda punta di grande movimento, per me anche prima punta, perché sa svariare su tutto il fronte dell'attacco e cerca la posizione migliore per ricevere palla e concludere a rete. Non si può lasciare solo. Possesso palla prolungato. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Lautaro Martinez Recupera la palla con un buon intervento. Caputo Sampdoria che prova a farsi minacciosa Ci mette il fisico Caputo Occasione per il vantaggio Stava per segnare un gol pazzesco Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio De Vrij Cialanoglu Erin Dzeko Lancia interessante Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone Possesso che finisce qui Caputo Passaggio intercettato Passaggio intercettato Erin Dzeko Lautaro Martinez Occhio al pallone per il possibile vantaggio Miracolo del portiere Occhio al croce di Brazovic Palla in rete 1-0 Rivediamo l'angolo dal quale è scaturito il gol Uno schema probabilmente con la palla giocata sul palo lungo Il gigante di Sarajevo Ed Dzeko la messa poi di testa E' nulla da fare per il portiere Si torna a giocare con i nerazzurri dell'Inter che sono adesso avanti Protegge il pallone per far salire la squadra Ronaldo Vieira Rincon Serie di scambi prolungata Aspettando il momento giusto Non riescono a sfondare Palla persa Skriniar Occhio a Brazovic Lautaro Martinez Lautaro Palla per Dzeko Brozovic Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone Che occasione Perdono palla Serve il compagno in area Colpisce al volo Palla respinta dal difensore Candreva Candreva Lo vede? Caputo Recupera bene qui il passaggio Recupera bene qui il passaggio Barella Occhio all'Inter che avanza Lautaro Brozovic Brozovic Bruta gestione del pallone Lautaro Lautaro Occhio a Perisic Numero d'alta scuola Ciala Ciala no glue Palla troppo lunga Che viene raccolta Senza problemi dal portiere Perde il controllo della sfera Si abbassa per prendere palla Barella Barella Ciala La tocca su Barella Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone Nulla rifatto Palla persa Ronaldo Vieira Si chiudono così i primi 45 minuti Risultato di 1 a 0 Prima frazione con l'Inter avanti Vedremo se conserverà questo vantaggio nella ripresa Dumfries Occhio a Brozovic Il tocco per Skriniar De Vrij Perisic Tras al centro Intervento fondamentale Ha evitato che il pallone entrasse Intervento tempestivo del difensore Che intercetta il passaggio Rincon Capisce tutto De Vrij Inter che spinge a caccia del gol C'è spazio per andare Ma non interessante in aria Tiene palla in attesa che si creino gli spazi Può mettere da lì Augero Ci pensa lui Pallone che viene allontanato Prova a salire ancora lateralmente l'Inter Ronaldo Viera Caputo Ma la buona non era facile controllarla Ronaldo Viera Caputo Terma l'azione e recupera la sfera Lautaro Martinez Occhio a Dzeko Lautaro Martinez Tentativo di cross Colpo di testa disinnescato Senza problemi dal portiere Conclusione debole Nemmeno tanta angolata Difficile che potesse entrare Beresinski Ronaldo Viera Pallone che viene riconquistato Baragna metri Barella Ed in Dzeko Ocassione per Dzeko Quale rete Esulta per la doppietta Ci ha preso davvero gusto Possiamo rivedere il gol di poco fa Portiere non esente da colpa Pesso la conclusione Poco reattivo Si è fatto sorprendere sul suo pale Match che riprende Ha allungato portandosi sul 2 a 0 Continuano a far girare il pallone Decisivo l'intervento che evita guai Perisic Vastoni Chalannoglu Lautaro Gran palla qui per il compagno C'è spazio Attenzione Attento il portiere Non è finita Pallone riconquistato Possibilità Attenzione a Perisic Il tecnico può essere contento Della prestazione odierna Della propria squadra Pierre Non stanno sbagliando un colpo Hanno sfruttato al meglio Le tante occasioni create Il risultato conferma Che ci sta Tuolo solo squadra In campo finora La sostituzione Vedremo se cambierà L'atteggiamento Della squadra in campo Caputo Ronaldo Viera Ci mette il corpo Per proteggere il pallone Chiude bene il triangolo Può ricevere una posizione interessante Grande recupero Non riesce a chiudere Sfuma l'occasione Ripartono in campo aperto Barella Occhio al filtrante di Barella La tiene bene Lautaro E c'è il gol Il punto esclamativo Tre reti di vantaggio adesso E notte fonda Per gli avversari Splendido Il suggerimento in verticale In occasione del gol Come evidenziano bene Queste immagini Ma poi messa con una botta Dalla media distanza Che il portiere Non ha nemmeno visto partire Sembrano ormai Avere la situazione Sotto controllo Ronaldo Viera Ferrari Rincon Candreva Ecco Rincon Ha letto molto bene la traiettoria Pallone recuperato Pericolo Fischia l'arbitro Sembrava buona Qui l'assistente ha visto l'offside Erellini ha visto bene Una chiamata sicuramente non semplice Complimenti Ancora 300 secondi Alla fine della gara Riconquista palla Con un contrasto Rubido ma regolare Possono ripartire Attenzione Dumfries Buono qui l'intervento del difensore Sarà a fallo laterale Arriva il cambio Cialanoglu Ottima lettura Si giocherà ancora per 120 secondi Caputo Riconquistano palla gli avversari Finisce la gara Con la festa dell'Azurra Per questi tre punti Un successo strameritato Rotondo Mai in discussione Hanno preso in mano il pallino Dal primo minuto E non l'hanno più mollato